La ricerca e protezione non deve cadere nell'anoressia, quindi dobbiamo imparare ad accettarci e a volerci bene per quello che siamo e non cercare di essere qualcosa d'altro, perché l'essere qualcosa d'altro è una deformazione. Ma in fondo la piaccia estetica è come l'anoressia, chi si rifà la faccia ha un po' di più, come la natura, quindi c'è tutto un grande problema. Sì, però, ripeto, tra questa puntata è che almeno il governo sociale è un problema medico, che va al di là dell'anoressia che dice non accettarsi fisicamente. Quando parlavo di una differenza comunicativa tra chi si arriverà e chi assumerà un certo tipo di comportamenti secondo il costume e le mode, facevo riferimento proprio a questo. Ricordiamoci che ci sono delle persone a rischio. Certamente una linea della ricerca in termini scientifici è quella di riconoscere i preditori, cioè quegli elementi che individuano prima della comparsa clinica il rischio di ammalare. Sì, dovremmo riaggiungere che ci sono due dati dei cui bisogna tenere comunque conto, e cioè che solo nel mondo occidentale esiste questo problema. Cioè nel resto del mondo non esiste, in Africa voglio dire che non esiste, quindi... Esiste assolutamente solo nel mondo occidentale. Esiste assolutamente poi in America e nel mondo occidentale. Così come cambiando abitudine alimentari alcune popolazioni del centro America sono diventate al 90% obese. Cioè sono i fattori ambientali che entrano in gioco a modificare.